8 i campioni dell'economia circolare saliti sul podio del treno verde in sosta fino a sabato sul binario 3 tronco della stazione di Salerno premiati con una medaglia che permettono di raccontare storie importanti nel recupero dei materiali. È il caso della raccolta e del riciclo degli imballaggi usati di acciaio provenienti sia dalla raccolta differenziata fatta nelle case che da quella ad hoc fatta su aziende negozi ed attività produttive. Attività di ricrea il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi uno dei sei consorsi di filiera del CONAI cui aderiscono 272 aziende produttrici della materia prima e dei contenitori d'acciaio riciclo di imballaggi d'acciaio che in 20 anni avrebbero potuto consentire di triplicare i binari ferroviari italiani. Le risorse del pianeta non sono inesauribili e la rivoluzione dell'economia circolare pone l'attenzione di tutti su questa grande consapevolezza. Così ha spiegato questa mattina Roccandrea Iascone responsabile comunicazione e relazioni esterne di ricrea. L'acciaio si ricicla all'infinito senza perdere le proprie qualità e grazie alla raccolta differenziata gli imballaggi in acciaio possono rinascere infinite volte a nuova vita trasformandosi ad esempio in binari ferroviari. I principali utilizzatori di imballaggi in acciaio soprattutto in provincia di Salerno sono senza dubbio le industrie conserviere. Una bella occasione per parlare di raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio quindi scatolette per il tonno, barattoli del pomodoro vegetali, piselli oppure i tappi corona, i fusti, le bombolette spray. Tutto materiale che grazie alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio viene fatta nei comuni e poi ricrea riesce a garantirne il riciclo perché viene portato in acciaieria per essere fuso e tornare nuovo acciaio. Sono virtuosi i cittadini nel raccogliere questo tipo di materiale? Sì, se messi nelle condizioni di fare la raccolta differenziata assolutamente sì, il cittadino è pronto, sa, è cosciente di questo comportamento virtuoso e di che cosa ne deriva e per esempio un riprodotto nostro importante è per esempio i binari ferroviari su cui viaggiano i treni o parti di treno. Quanto materiale si recupera in genere in un anno? Noi viaggiamo sulle 470.000 tonnellate all'anno di riciclo e che comporta un notevole numero di materiale salvato e quindi che ritorna a nuova materia prima. Nelle operazioni di riciclaggio c'è perdita di materia, ci sono scorie? No, per noi no, fortunatamente perché l'acciaio è un materiale permanente, tanto ne entra in acciaieria da forno elettrico per tornare nuovo acciaio, altrettanto ne esce, quindi da un barattolo, una scatoletta, un secchiello, una bomboletta esce altrettanto materiale nuovo. Barattoli, scatolette che vengono riciclate, lei diceva si possono realizzare binari ma si possono realizzare anche nuove scatolette? Si può portare una notevole quantità di nuovi riprodotti, per esempio anche molto materiale da ferramenta, dalle chiavi inglesi, bulloni, è tutto un ciclo virtuoso che grazie al comportamento virtuoso dei cittadini può essere messo in atto. Non a caso ad attingere da questo materiale riciclato tante aziende proprio del territorio della provincia di Salerno che operano nel settore delle industrie conserviere. Assolutamente sì, è un circuito virtuoso anche da parte delle industrie, noi in questi pochi chilometri abbiamo gli scatolifici che producono il materiale, quindi gli imballaggi barattoli, le aziende che li utilizzano, la grande azienda tradizione di aziende conserviere di cui poi c'è una grandissima legame con il barattolo in acciaio e poi il comportamento virtuoso dei cittadini e soprattutto gli operatori che fanno sì che questo materiale possa tornare alle acciaierie. Grazie.